Ciao ragazzi, sono Pingu e bentornati qui in questo mio nuovo video. Oggi, nuovi premi della Weekend League classici, ormai, di ogni settimana. Questa settimana abbiamo fatto livello 5, come sempre, sul primo account. Non vi spoilerò come andata nel secondo, ma vi ricordo di recuperarlo nei prossimi giorni appena uscirà. Vi chiedo soltanto di lasciare un like, un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, perché se non lo fate vengo a cercare, ovviamente, Fiki con il classico, ormai telecomando. Io direi di un per l'altro tempo, anche perché abbiamo un paio di pacchetti, un paio di cose, quindi direi di un per l'altro tempo. E speriamo di sculare, visto che abbiamo, tra virgolette, i nuovi premi possibili, con la seconda squadra del Foodbird Day, tante icon. Non lo so, io spero in qualche piccola sculata, non sarebbe male. Vi lascio 3 secondi, 2 piccole sculate che ho fatto ieri sera, mentre non registravo. Strano, io sculo quando non registro, chissà perché. E ci vediamo tra pochissimi secondi con i premi. Ok, eccoci qua ragazzi, premi livello 5, voglio sculare, voglio trovare, ho un Foodbird Day, anche se l'abbiamo già trovato ieri con un iro appunto, e barra ho un icon, se trovo un icon Foodbird Day penso che esplodo, visto che, ripeto, mi hai fatto trovare un icon Totti, cioè Pirlo, ho trovato tante icon, soprattutto sul primo account che è questo. Se mi vuoi dare un Foodbird Day, io sono più che felice, vai! Ok, ok, Kier, buono, 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 Kier, ok, ok, intanto Foodbird Day ce l'abbiamo. Quindi, ci abbiamo il titolo. Anche se l'avevo già trovato, ma pazienza. Dai FIFA! Ok, Sahil, va bene, comunque due carte speciali, no, stavo controllando se stava registrando BS, ogni tanto mi dà problemi, quindi. Se trovo Cristiano Ronaldo, esplodo, ve lo dico, eh. Quindi, mi raccomando, dai, mi hai fatto bestemmiare tutta la Weekend League, classici, ho fatto 40 partite in un giorno, quindi sono morto, vai! Dammi il Sium! Lukaku? La caca, bello! Dai, mi hai dato Lukaku per... Quel cazzo è successo? No, 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 oh! Impazzito al gioco! Mi stava facendo scartare... Vabbè, ok. Dai FIFA, dammi Cristiano, dammi Cristiano, dai, che qua sul secondo account non posso comprarmelo, dai! Il suo primo account, scusatemi. Dai FIFA! E quando mai? Sangare? Dai, 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 dai FIFA, dammi Cristiano, dammi Cristiano, lo dai sempre a tutti, tranne a me, dai! Non ho ancora trovato quest'anno Cristiano Ronaldo, dai! Niente, due volte. Prendiamo Stefan. Va bene! Va bene, lo troveremo nel pacco 3 IF, nessun problema. Abbiamo 14 pacchetti, madonna mia, non troveremo niente. Vai FIFA! Niente, next! Zinco Premium, non troveremo niente qua, ma ci sta a aprirlo. Infatti, next! No, un IF sotto, vabbè, vabbè, dove gioca? Francia 2 della Repubblica Confederale, guarda, confraternita, la chiamano confraternita, grazie, ciao! Crediti! Next! Zinco Prime, dai, dai, dai! Dacci una sculata, dacci un foot birthday! Niente! Dai FIFA, ci hai dato un foot birthday, dacci anche l'Icon foot birthday, dai! 81 più! Bandierina! Savic! Vabbè! Nextissimo! Dai FIFA, una sculata, abbiamo tanti pacchetti! Orrorari, così di cattiveria! Pum pum! Vabbè, walkout, è già positivo. Inglese, TD, Alexander Arnold, Alexander Arnold. Spero di averlo già messo in qualche sfida, se no mi tocca buttarlo, perché non è scambiabile. Grazie di... No, era scambiabile, come non dì. Vabbè, ciao Windowsy. Vai, 10 giocatori, 82 più. Almeno... Almeno un if. Niente. Già tanto è bandierina, c'è 83 è il massimo? 84. Mamma mia! Chi c'è sotto? Giusto per capire il pattume. Bello Hazard nel 2023. Vabbè, giocatori rari. Dai, dai FIFA, doi, doi, mi sto sculata, già non sto bene oggi. Cos'è, if? Inglese, DS? Ma l'ho già trovato ieri. Era scambiabile però mi pare il pacchetto, no? Perché l'avevo già trovato questo. E infatti, Andanovic, Tammino, ok, Lazzari, Dzeko... Beh, almeno un paio di 84, dai. Bellingham. Vabbè, gli altri possiamo scartarli. Next. Dai, due mega pacchetti, lo prendiamo con i cattiveria, con i pacchetti più forti. Dai, cos'è? Bandierina, Germania e di Serge. Gna, Bri, nextissimo. Altro mega pacchetto, dai, siamo già a dieci minuti di registrazione, Dio santo. Non so quanto avrete visto voi. Bandierina, Spagna, DC, Sergio, Néramos. Dio sà, c'ho solo spagnoli in ultimo periodo. Non so, nella vita precedente probabilmente ero spagnolo, perché non è possibile. Abbiamo 284 più, 285 più, il paga 125.000 e l'IF. Apriamo prima l'IF e troviamo Cristiano Ronaldo, in questo momento. E walk out? Non è sangare. Niente, Cristiano Ronaldo sul primo account. Vabbè, lo troveremo nel secondo, dai, facile. Anche perché anche il secondo è abbastanza spulato. Mamma, doppio australiano, grande. Vai, ultimate, così, di cattiveria. IF, però non walk out. Germania, ATT, Fogs, Fogs, non ce la faccio a già parlare. Fulkrug, scusate. Oddio, una vita che non parlo tedesco. Nava sotto del... Vabbè, dai, onesto come pacchetto. Ci becchiamo negli 84 e 85 più. Vabbè, ragazzi. Ultimi due pacchetti, due giocatori 84 più. Dai, FIFA, dacci una scurata, dacci l'Icon. Niente. E oro base, d'84, Kunde, Varano. 84 più, 84. Vabbè. E Vlaovic che abbiamo appena trovato. Ovviamente non è scambiabile, vero? È scambiabile, Dio ti ringrazia. Ottimo per le sfide. Visto che stasera per me dovrebbe uscire il suo gattuso. O chi cacchio, o Rabiot, non lo so. Gente strana. 85 più intanto. D'85 base, Germania, CC. No, è Tonino Cross. Perché è venuto a destra invece che a sinistra? Non lo so. Il 150esimo Toni Cross una volta che fosse stato speciale quest'anno e l'avessi trovato. Ammazza. Toni Cross de Gea. Utile all'inizio del gioco. Dio santo Toni Cross, però c'è una velocità, Dio santo. C'è neanche io in questo momento che non mi alleno da quattro anni. Vabbè, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Abbiamo comunque sculato, abbiamo trovato comunque un giocatore evento. Vado subito a registrare sul secondo account, nella speranza di trovare qualcuno. Vi saluto e ringrazio. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così vi ricordo, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Se non lo fate, vengo a cercare ovviamente il picchio con il telecomando. Arriviamo il prima possibile a 350 iscritti, perché sennò mi arrabbio veramente. E io non posso dirvi altro che non so quando, non so come, non so perché. Ma l'importante è dire FIFA. Ma un icon? No. Pinguele. Ciao. E fatemi sapere se voi avete trovato un icon birthday. E quale. Ciao. 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 Ciao.